Siamo qui con Gabriele Vignalosa, volevo chiedere come mai hai scelto Cassino? Ho scelto Cassino perché ho visto subito che era una società organizzata parlando del presidente Manzari, subito stamattina c'è stata l'opportunità di allenarci e di lavorare, ringraziamo il giovane giocatore azzurro che si intervista, oltre alle sue qualità tecniche anche quelle di giornalista show. Qual è il mio ruolo? Su loro è ara piccola, servire i compagni. Io la parlo alla vasta e non alla vasta.